Vigilia della quarta giornata di ritorno, poco serena in casa Ciliverghe con la squadra che ha ricevuto in settimana la comunicazione dell'accoglimento del reclamo presentato dal Crema che annulla così la vittoria gialloblu. Ma è premesso il fatto che noi domani abbiamo una parola importante quindi a questa cosa dobbiamo pensarci zero, però in settimana è arrivata questa notizia e sono veramente allibito e scioccato da questa decisione, soprattutto dalle parole dell'arbitro pronunciate dopo 15 giorni su un episodio veramente difficile da valutare ancora adesso guardando le immagini, quindi penso che sia la prima volta nella storia del calcio che un arbitro ritorna. Non è una sola decisione, è una decisione così difficile, quindi a pensare male si fa peccato però ogni tanto ci azzecca, quindi veramente sono deluso e arrabbiato per questa decisione però adesso pensiamo alla partita domani che è la cosa più importante. Alle spalle la brutta sconfitta contro il Progresso, il gruppo deve subito tornare ad essere la squadra vista contro Crema e Mezzolara. Sì sì, veniva una partita con Progresso fatta male, giocata male, persa e dopo un giorno è arrivata questa notizia, ripeto, assurda. È normale che martedì abbiamo fatto un allenamento un po' così, un po' difficile dal punto di vista mentale. Da lì in poi invece i ragazzi si sono scollati di dosso questa cosa e anche stamattina abbiamo fatto un allenamento fatto bene con grande intensità e siamo tutti considerati sulla partita domani che è una partita, ripeto, importante come lo saranno tutte, ma domani dopo appunto quello che è successo in settimana dobbiamo dare un segnale che Ciliver che c'è e lo farà vedere. La classifica ci pone questo, il tempo stringe, i punti ci servono e quindi al di là che sia la Fiorenzuola che sia una buonissima squadra, una squadra forte che gioca bene, con tanti giovani di valore, noi dobbiamo assolutamente andare a fare una partita per poter portare a casa un risultato positivo. La squadra di Carobbio, ora a fanalino di coda in classifica, affronterà il Fiorenzuola secondo in graduatoria, ma che all'andata aveva a lungo sofferto a Casacili trovando solo all'ultimo minuto la rete del pareggio. Sì, purtroppo col senno di poi la partita di andata con il Fiorenzuola e con la Corregis in casa forse hanno lasciato qualche segno che poi ci sono portati dietro. La gara con il Fiorenzuola è andata, è stata una gara giocata alla grande, fatta bene, molto bene, preparata bene, dove stavamo meritando la vittoria, invece un episodio all'ultimo minuto ci ha condannato al pareggio, però quello è una cosa che dobbiamo ricordarci per il fatto che è una squadra di Fiorenzuola forte, però se affrontate nel modo giusto può essere messo in difficoltà.